Allora, dopo tante chitarre e tanti strumenti che ho trovato in fiera, mi imbatto in un piccolo stand di custodie, capitanato da... Agostino Ciao Agostino Allora, una passione strana quella delle custodie Beh, non è strana, io suono da quando avevo dieci anni, adesso sono 64, perciò... Ne hai passi lì di nuovo Sì, sì, e diciamo che dal 2004 ho iniziato a produrre custodie per chitarre basso Delle più famose, le più vendute, diciamo, come custodie Non faccio cose particolari, ma la produzione è cinese Però ho l'opportunità di scegliermi i colori, di scegliermi i tessuti Di scegliermi gli abbinamenti dalla cucitura alla meccanica, tutto quanto Il velluto interno, per cui ho una bella scelta di cose Mi tengono non perché sono un grosso cliente, semplicemente perché sono italiano E dopo, ecco, loro hanno dei clienti che vanno là, sono coreani e giapponesi soprattutto E quando vanno, mi dice la ragazza che mi segue là Prima cosa che gli dicono, è stato qua l'italiano, cosa ha fatto? Chiaro, dopo loro fanno migliaia di pezzi, io ne faccio 100 pezzi per articolo Ecco, per referenza, sì, comunque è un bel impegno, sì Non è la nostra attività principale, perché noi facciamo sempre importazioni di fiori artificiali Che non c'entrano in tubo, però questa è la mia passione Immagino poi, i musicisti poi evolgono la passione, no? Chi diventa fonico, chi diventa autore, chi diventa... Chi resta un brocco come me, nonostante 50 anni Però, esatto, sei passato Esatto, bisogna fare questo Poi abbiamo inserito tracolle, polish, ditali, un po' di cose varie Per accontentare alcuni clienti, ecco, diciamo così Allora, grazie, io ti ringrazio davvero, complimenti, buona fiera e buon proseguimento Ciao a tutti